Insieme per Ponte Lambro, la lista storica di Ponte Lambro, nata nel 2009, si ripresenta ancora alle prossime elezioni di giugno e lo fa ancora con il candidato sindaco uscente Ettore Pelucchi. Signor sindaco, per la terza volta è candidato sindaco. Perché? Perché ci ricandidiamo? Ancora ad amministrare Ponte Lambro è abbastanza semplice perché crediamo di aver lavorato molto bene in questi dieci anni perché sono dieci anni che amministriamo questo paese, siamo convinti e consapevoli di tutte le cose che abbiamo fatto e quindi vogliamo continuare in questa direzione. Abbiamo fatto tanti investimenti, solo negli ultimi 4-5 anni abbiamo fatto investimenti che hanno superato 8 milioni di euro di opere che sono state tutte quasi completamente realizzate, dico quasi perché ne abbiamo solo una che deve essere ancora completata, che riguarda l'ex asilo di Ponte Lambro e che ospiterà la scuola a 0-6 anni. Quindi è un grande investimento e questo richiederà un po' più di tempo. Per tutto il resto, con grandi contributi che siamo riusciti a ottenere, abbiamo realizzato tantissime opere, tantissimi lavori che oggi sono già a disposizione di tutti i pontelambresi, di coloro che transitano e vivono nel nostro territorio. Ma c'è qualcosa oltre all'asilo che volevate realizzare e che non siete riusciti? Sì, sicuramente c'è stato anche qualcosa che non abbiamo fatto, ma ne abbiamo fatte davvero tante. Quello che non abbiamo fatto l'abbiamo messo in cantiere per il prossimo futuro. Abbiamo i progetti già esecutivi di tre grandi interventi che riguardano il rifacimento del centro storico di Ponte Lambro, il centro storico di Lezza e il completamento di quello che è l'intervento in Villa Guaita. Di tutte queste abbiamo anche qui ottenuto finanziamenti per la progettazione e questo significa molto poter partire, avere i finanziamenti per realizzare i progetti perché questo ci permettono poi di programmare gli interventi per gli anni successivi. Lo avevamo già fatto per altre opere, quelle che oggi vediamo sul nostro territorio, le abbiamo potuto fare proprio perché con, posso anche dire, con lungimiranza e con grande progettualità abbiamo deciso di progettare importanti opere e adesso queste opere sono state realizzate e sono pronte. Le altre verranno pronte a breve, già saranno cantierabili nei prossimi mesi, per cui a breve Ponte Lambro avrà anche questi nuovi interventi di cui vi ho appena detto. E un'altra cosa molto importante, e questo si rilascia la domanda che mi faceva se manca qualcosa. Sì, forse qualcosa che avremmo voluto realizzare già prima ci manca ed è soprattutto il fatto di quello che noi diciamo essere la passeggiata lungo l'Ambro. Noi crediamo che l'Ambro, Ponte Lambro, abbia e possa avere un ruolo importante che negli anni passati non è mai stato valorizzato come avrebbe dovuto e noi ci crediamo molto in questo. Stiamo lavorando, abbiamo già presentato i progetti, aspettiamo il finanziamento, quindi la risposta di un bando a cui abbiamo partecipato insieme al Comune di Caslino per una grande passeggiata comunque lungo il fiume che appunto da Ponte Lambro arrivi a Caslino e quindi superando quella che è un dislivello che oggi impedisce il collegamento fra i due paesi. considerate che nel momento in cui superiamo queste barriere abbiamo la possibilità di andare dalla foce a Pusiano del Lambrone e di salire da lì perfino a Ponte Lambro andando oltre a Caslino. E questa è una grande opera che ci piacerebbe venisse realizzata. Sappiamo che i tempi sono un po' più lunghi ma è una cosa a cui teniamo molto. cose che avremmo potuto fare, interventi che avremmo potuto fare, erano anche legati all'istituto comprensivo, alla scuola Aldo Moro di Ponte Lambro. Anche quello è un piccolo rimpianto perché abbiamo un bellissimo progetto, abbiamo un bellissimo progetto. In questo momento non è rientrato tra quelli finanziabili all'interno del PNRR e delle altre possibilità di finanziamento che si sono presentate ma contiamo prossimamente di continuare anche con questo intervento. Il potere logora chi non ce l'ha, diceva un grande politico. Che cos'è per lei la politica? La politica è principalmente servizio e vicinanza ai cittadini. Quando si è sindaci di piccoli paesi come il nostro, quello che serve è essere un punto di riferimento per le persone che incontri e che vivono il tuo paese. Lo abbiamo visto principalmente, ad esempio, durante il periodo della pandemia, dove abbiamo veramente, mi sono accorto che il comune e gli amministratori, il sindaco erano il primo punto di contatto in un momento che era veramente di difficoltà per tutti e quindi il valore della politica è quello di essere accanto alle persone, soprattutto quando il bisogno aumenta. Ponte Lambro, 4.200 abitanti. Sì, fino a qualche decennio fa era un paese all'avanguardia anche per il numero di opifici, filande e via dicendo, tanto che attirava anche imprenditori dall'estero. Ecco, quale sarà la vocazione di Ponte Lambro nei prossimi anni? Una vocazione turistica o ancora industriale? Ma Ponte Lambro è sempre stato un punto di riferimento per tutto il territorio. Diceva anche lei quando parlava del cotonificio principalmente, che dava lavoro non molti anni fa a oltre 1.500 persone che venivano da tutto l'Erbese, da tutto il triangolo lariano. Ora il mondo è cambiato, ma Ponte Lambro ha dei grandi vantaggi. Innanzitutto è collegato a Milano con la ferrovia e questo è sicuramente un punto di forza e noi quello che vorremmo è che Ponte Lambro fosse un posto dove si possa vivere bene, vivendo bene, si può lavorare bene. Siamo in una zona, in un territorio immerso nel verde, al centro di un'area che ha riconosciuto mondialmente come luogo bello che merita visite, merita tutto che è quello del lago di Como e quindi noi siamo in una posizione strategica da questo punto di vista, ma lo ribadisco, deve essere un paese accogliente, in grado di offrire servizi alle persone che decidono di venire qui a vivere e posso garantire che qui si vive molto bene. Cavallo Vincente non si cambia. La lista sua come sarà? La prossima lista? Ah, è una lista che proseguirà nel solco di quella che è la nostra tradizione, una lista che si è formata nel 2009, che continuerà e continua ad avere rappresentanti che appunto facevano anche parte di quel gruppo che ha fondato e che ha costituito questa lista. sarà fatta il 50% da queste persone, però ci sarà un buon numero di nuovi candidati che con grande entusiasmo e con molta competenza cercheranno di dare il loro contributo e porteranno il loro sostegno a questa nuova avventura. Grazie e tanti auguri. Grazie a voi.